in partenza Norton B probabilmente riesce a tenere la corda insiste a largo Oceania OM parte forte anche in Infagas si vanno a delineare le posizioni con Norton B che tiene la posizione davanti ad Oceania Oceania per il momento è a largo per l'inserimento di Gypsy Man in terza posizione Nymphagas Oceania a largo scoperta andiamo a vedere dove Olly Rob si accontenta della terza pariglia esterna 29.9 il quarto iniziale Olly Rob insofferente muove a largo sul rallentamento di Norton B Olly va a caccia del leader dopo 600 metri percorsi in 46 passaggio davanti alle tribune Norton B, Gypsy Man a largo Olly Rob ed Oceania lungo la corda troviamo anche Nymphagas che fa pariglia con Nassiria Nor ancora un rallentamento 1.1.3 15.3 l'ultima frazione Norton B con ai fianchi Olly Rob penultima piegata che si va a completare il chilometro di Norton B è percorso in 1.17.1 la mossa è a largo di tutti di Lindis Nordfro che cerca di superare diversi avversari Norton B ancora saldo leader Lindis va all'attacco di Olly Rob Olly Rob è lunga prende vantaggio Norton B Lindis Nordfro prova all'aggancio per linee interne guadagna Gypsy Man in cerca di varco Nymphagas Norton B per proprio conto trova il varco Nymphagas viene forte Nymphagas e mentre Norton B se n'è andato per le altre monete è Nymphagas netta mentre per il terzo si avvicina fortissimo anche Naturali B e probabilmente Naturali B riesce a raccogliere la terza moneta quindi arrivo probabile ed ufficioso 1 Norton B 4 Nymphagas e sorpresissima al terzo il numero 8 di Naturali B che con sprint notevole viene a raccogliere la terza moneta media probabile di 1.15.8 1.1 l'ultimo giro per Norton B e Romeo Gallucci il training di Giorgio D'Alessandro Sene e i colori di Oscar Coppola e i colori di Giorgio D'Alessandro Sene